ciao amici di Tok Tok Tunisia oggi con Pier Giorgio e Silvia siamo in cerca della loro futura casa ci troviamo qui a Mamette Yasmin e andiamo a vedere la seconda perché già la prima l'abbiamo vista adesso c'ho il sole anche di fronte è questa bella villa qui nei pressi di Mamette Yasmin quindi abbiamo qui una bellissima piscina sfioro dove di fronte lì dove sta questo marmonero esce dell'acqua in questo caso no qui inquadro poco a poco a poco alla casa eccoci qua quindi stiamo aspettando che il proprietario ci faccia entrare perché ci stanno ancora gli operai che ci stanno lavorando dentro come potete notare il nostro nostro lavoro comporta anche questo quindi girare per case per gli immobili e diciamo che a poco a poco anch'io mi sono fatto una mia cultura è un mio occhio un pochettino più clinico ok ci accingiamo ad entrare qui padrone di casa ecco penso che in questo caso stiamo entrando in un primo salotto ecco da quest'altra parte ci sta credo un altro salotto o perlomeno un'altra zona per rilassarsi che dà sulla sulla piscina allora anche qui per disposizione per la serendina elettrica come potete notare lì termosifoni ancora da da mettere qui punto a punto b entrate uscita dell'acqua calda marmo a specchio la casa si divide su due piani in questo caso abbiamo una parte che c'è di scale che porta su ovviamente e quest'altra stanza che entro qui è un armadio grazie grazie per giorgio allora in questo caso ci sta un armadio secondo voi questa che cos'è una camera una camera e basta non tanto grande per un lettino vero per un lettino per un lettino però la cosa bella che da questo lettino darebbe sulla sulla piscina ovviamente mi fanno notare che questa parte qui che io non ho detto è la cucina perché ovviamente di fronte a me ci sta lo scarico le prese di acqua calda e fredda ci sta anche ovviamente la parte elettrica è questa quella cucina ecco grazie per avermi fatto notare perché me l'ha sfuggito mentre loro salgono vi faccio vedere che da quest'altra parte ci sta un banno un bagno per gli ospiti spero che si possa vedere perché le non ci si possono accendere quindi qua va messo solamente il lavello questo è tutto il bagno e qua ci sta la doccia anche questo è un lato positivo del nostro lavoro in questo caso sono uscito io e non i nostri assistenti quindi questa coppia è toccata a me e adesso con loro mentre faccio le scale che mi portano al primo piano stiamo per l'ustante scoprendo questa casa che come potete notare è ancora in fase di perfezionamento perché mai costruita quindi stiamo andando a vedere i dettagli come per esempio come posso notare e anche questo dettaglio qua questo è la classica lucina che illumina la scala ecco allora faccio un passo indietro qua c'è un disimpegno andiamo a vedere questa stanza illuminatissima sopra e con due finestre qui con un balcone qua e con un armadio è la stessa cosa come grandezza secondo me del piano di sotto una piccola cameretta adesso qui abbiamo un bagno quello dove lo già ci sta messo e qua mi ho messo la doccia come potete notare la zona è in fase di costruzione ecco mi fa notare la vista dici Mirko ma dove siamo? qua in confronto all'altra cassa che abbiamo visto che io non ho fatto il video ma questa volta tranquilli ragazzi come facevo notare è una zona in piena fase di costruzione e qua ci stanno bei campi agricoli c'è la piscina sotto però c'è la strada però ci sta anche la piscina qui sotto però è anche bella l'autostrada che passa qui accanto e allora torniamo indietro qua ci sta un'altra camera da letto un'altra camera da letto quindi la predisposizione per la tv armadio a muro più grande delle altre quindi penso che sia la camera da letto principale qua abbiamo il bagno è anche qui già pronta per l'installazione della doccia perché sotto lo scadico è tappato non vi nascondo che finita e rifinita in tutti i suoi sensi questa casa secondo me diciamo ha un valore in questo caso il valore richiesto quindi il canone mensile richiesto dal proprietario è di 3000 dinari quello che diciamo non mi convince non sono le rifiniture non è proprio il tutto ma è un po' la distanza perché alle volte si pensa di fare un affare vedendo da lontano uno si fa i pensieri in testa dice si risparmia qua ci sta una bellissima villa come questa tutta elettrica tutta moderna ma poi alla fine con un prezzo di 3000 dinari come in questo caso io sinceramente non so non so se consigliarlo perché poi alla fine la mia parola non è l'ultima perché l'ultima sarà di coloro che la vanno a prendere la casa però io personalmente ora qui mi ero ucciso non la prenderei ecco si si un po' troppo distante si rifinita bene 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 anche qui l'esterno potete notare le porte il pavimento però ancora è una zona da da costruire quindi ancora ci sarà molta polvere che svolazza molto problematiche molti rumori va bene signori che dici andiamo andiamo alla prossima per non dimenticare ci sta appunto la telecamera e l'allarme più ci sta il vanno caldaie qui che già stanno attrezzando gira altra corsa siamo in un'altra casa come se potete vedere qui alle mie spalle un'altra casa e adesso a poco a poco la scopriremo insieme ecco ve la farò vedere scopriamo tutto insieme ti preoccupare dai ormai ti conoscono tutti allora ragazzi qua ci sta una grandissima piscina questa zona di amanette nord quindi lì ci sta l'entrata coperta per quanto riguarda la macchina ovviamente il cancello è automatico a questo tempo facciamo un giro intorno alla casa i ragazzi sono entrati dentro a vedere una cucina che è diciamo esterna alla casa ci sta una cucina grazie grazie a Giorgio ecco questa è una cucina esterna quindi se uno decidesse di andare a mangiare fuori perché vuole mangiare a bordo piscina qui così lo potrebbe anche tranquillamente fare ovviamente ci sta la doccia fuori a girare ci sta altro piccolo giardino e lì il bagnetto a portare di mano se entriamo dentro la cosa si sta facendo pure interessante tiriamo gli occhiali per guardare va bene diciamo che questa l'interno ci assomiglia alle foto no? sì 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 ecco dai una delle poche volte in cui l'interno assomiglia alle foto allora anche questa casa si divide in due livelli si entra si ha un tavolo subito qui nel salotto ovviamente divano grande tv sulla destra ci sta un bagno per gli ospiti bagno per chi sta qua giù ah grandissima doccia ragazzi una grande doccia scusate scusate allora lavatrice pensili cappa forno fuochi caldaia dell'ariello ci sta la caldaia bene ci possiamo lavare e riscaldare anche perfetto lo salvo su come potete notare ci sta l'aria condizionata la serandina le serandine sono elettriche anche qui luce che illumina la scala quindi di notte torna sempre utile saliamo sopra scopriamo quante stanze ci sono ah ecco qui ci sta la prima e allora qui abbiamo due eletti divano oh qui benissimo grazie armadio a muro e questo qui da quest'altra parte ci sta il balcone camera da letto quindi questa camera da letto non è una suite ma grande molto grande ci sta il balcone la rie condizionata e come faceva notare il proprietario si vede la piscina vediamo dove sta si qualcosa si vede si ah altra camera da letto e questo è suite perché già sento le voci che dicono sola da bagno sola da bagno quindi abbiamo anche qui una parete attrezzata non è andata ok siamo siamo entrati basca così angolare bagno ic comunque molto grande perché se potete notare guardate guardate chi ci sta qui allora qui dappertutto ah qua ci sta un altro bagno scusate non pensavo di aver finito invece qua ci sta un altro bagno e anche qui guardate una doccia che Mirko è specializzato Mirko Salvati detto in mezzo il tester delle doci si può parlare ci possiamo fare la doccia insieme io te lavo la schiena mi faccio questo non c'è la finestra 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 ho potuto notare che la cassa è altamente luminosa sia di luce naturale che di luce artificiale ha tutte le predisposizioni è piena piena ricca di prese che non fanno male c'è tirano sifonici riscattamento centralizzato criminalizzatori guardate come si vede qui il salotto il salotto non è che mi piaccia molto parere personale però anche quando tu scendi qua ti apri il cuore perché è veramente veramente tutto grande e da quest'altra parte se si può vedere guardate la piscina che tranquillamente tranquillamente vi posso assicurare che da qui quindi dal salotto si può vedere citofono citofono ragazzi lo sto girando nuovamente ma vi posso dire che è una grande casa allora il valore che è stato attribuito dal proprietario come canone mensile è di 3500 dinari mese quindi fatevi il calcolo voi di visto 3.3 all'incirca così sapete che all'incirca dovete spendere 1000 euro o qualche cosa per questa casa mese stiamo cercando un range più alto quindi ci stanno case molto più basse ma chi può o chi ha interesse a chi piace e se vuole scegliere una casa con un range più alto perché vuole determinate caratteristiche lo possiamo fare in questo caso lo stiamo facendo in questo caso ve lo sto facendo pure vedere ragazzi con questo video avete visto due case un certo standard ma vi posso assicurare che avete visto la seconda e la terza visionata da noi ma i nostri amici hanno scelto la prima cioè con lei che non ho filmato ragazzi però mi hanno assicurato che prossimamente me la faranno inquadrare quindi compariranno nei nostri video ragazzi seguiteci sempre su youtube così vi racconterò i risvolti perché ormai siamo nello stringere ormai manca pochissimo va bene questo è l'esterno siamo alla fase finale per l'appartamento numero 1 che ancora non risulta sul video ma risulterà prossimamente quindi pertanto siamo alla fase di contrattazioni quindi si mangia un'altra voce ci stanno Sara ci stanno proprietari messo là sotto ok ce la faremo grazie 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 grazie